Monza non posso non dirlo. Monza è una roba... non vedo l'ora arrivi Monza. Sì, è proprio una... Ti senti orgoglioso di essere italiano? Poi noi che siamo lumbardi, per milanesi, quando vai a Monza dici, vai vicino a casa mia, c'è gente da tutto il mondo che viene, gli hotel pieni, le strade congestionate, le bandiere col cavallino, le bandiere dell'Italia, i ragazzini con i papà, le famiglie... Da generazione e generazione. Ma no, ma è una roba incredibile. Vabbè, quindi Monza primo, poi... Monza è... Fuori categoria Monza quasi. Poi mi piace tantissimo Montreal, il Canada. Montreal, che è una città, una grande città, quando c'è la Formula 1 chiude tutte le sue strade centrali e fanno solo concertini, feste, birra, hot dog... Quindi molto sentita questa cosa. Molto sentita, hanno la capacità di creare grandi eventi degli americani, ma la passionalità dell'europeo, perché pieno di europei, Miami, poi casca sempre intorno al mio compleanno. Quindi...